Una donna su tre, nel corso della propria vita, ha un'esperienza di violenza fisico-psicologica. Accade in ogni parte del mondo, in tempo di guerra o di pace, a casa, a scuola, al lavoro, su internet, per strada o in un campo rifugiati. Perché la violenza è un fenomeno globale che attraverso ogni società e ogni cultura, coinvolgendo donne di ogni classe sociale, etnia, religione ed età. Ma la violenza si riproduce e colpisce indistintamente uomini, giovani, anziani e stranieri. Occorre costruire una società diversa, basata sulla solidarietà di generi e generazioni, dove convivano differenze, eguaglianze, pare opportunità e che garantisca una piena cittadinanza. La CISL c'è, come antidoto ad ogni forma di discriminazione e superamento degli stereotipi di genere. La CISL c'è, per tutelare i diritti e contro ogni forma di sfruttamento. La CISL c'è. E dice no alla violenza.